Benvenuti ragazzi, io sono... Cosa è successo? Cosa è successo? Perché c'è uno scheletro? Perché c'è della lava e io non prendo danno? Ragazzi, no, 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 ragazzi! Enchant di Sword Ma mi serve della bislazzuli C'è, ci serve... Perché ho tagliato? Ah sì, sono andato in bagno, mi sono dimenticato Comunque ho tagliato Non ve l'ho detto, scusate Perché? Perché c'è una cassa? Cosa c'è? Dei lapislazzuli e due stack Buono Mi enchant tutto, mi enchant Allora, no Qua metto due, tre lapis Qui metto questo No, no Solo la spada Ho sbagliato Devo mettere solo la spada Soltanto la spada E adesso posso... Perché sono in creativa? C'è, io non capisco... Perché, ragazzi, mi si è tolto? C'è uno che cammina nella mia stanza Mentre... Scusate Ritorno subito In Minecraft Ok, scusate ragazzi Per il taglio Comunque I 64 Sono 64 È come se avessi barato Però non fa niente Mi sono enchantato la spada Adesso Sono molto più forte Con la mia spadanna Spadalla Spadiella Vabbè Qua Io tapperei un pochino tutto Prendo Ok, ho tappato Per bene Circa Non lo so Mi dovrei liberare di questo Ecco la spada Non avevo più capito dove era Oh mio Dio Ragazzi Perché hanno scavato? Cioè Cos'è successo Raga? Raga Cos'è successo? Mentre le ruove Stavano andando avanti Nessuno Potrà mai fermarlo Ma lui All'improvviso Sentì un rumore Che cosa è stato? Che cosa è stato? Mi sta controllando da solo Ciao Albi Chi sei? Non lo sai? No Che cosa? Ma è stato mio padre Mio padre Mio padre ha scritto questo No Mi sta scrivendo da solo Cosa succede? Cosa? Sono Scheleti Perché parla tutto Dalla mia Ok posso scrivere Sono scheleti No Io non ho il coraggio di scrivere Mio padre Mio padre ha fatto questo Mio padre ha scritto al posto mio Mentre Io non c'ero Cos'è successo? Cos'è successo? Cos'è successo? Io Fatemi mangiare Scusate Devo mangiare Questi biscotti Che non mi ricordo Dove ho trovato Ma non capisco Chi è che ha fatto Questo tunnel? Un pigman Però Tanti cristalli Con la mia spada Dovrei fare One shot E Mi ha dato anche Una spada D'oro Userò un pochino Questa Non mi serve Perché la mia è indistruttibile Quindi non mi serve Allora Però Sono finalmente riuscito A trovare la strada Però ragazzi Io tornerei indietro Dobbiamo parlare Perché non riesco Perché non brucio Nella lava Primo Secondo voi È il totem? Scrivete Se è La mia armatura O è il totem Secondo voi Secondo me È il totem Poi non lo so Per di qua Tapperei Perché Per ora Non voglio andarci Voglio andare Per di là Quindi Io tappo Poi scavo Però Per ora Dobbiamo tornare indietro Ragazzi Vi siete per caso Rezzi conto Di cosa è successo Io no C'è Qualcuno ha scavato Dei tunnel C'è L'episodio scorso Il primo episodio Non erano così Come? Poi il portale è spento È ricoperto da tutto Lava Teschio Vabbè Il teschio Io lo prenderei Non lo so Se ci può far comodo Madonna mia Prendilo Prendi Me lo metto Vedete? Non prendo danno Non sto prendendo danno Vabbè ragazzi È una cosa impossibile È una cosa impossibile Che sta succedendo? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Devo andare Ok Riaccomi Riaccomi Scusatemi ragazzi Non trovo più La via di niente Dove devo andare? Il portale è di nuovo acceso Com'è possibile? Questo non funzionava Ora funziona Funziona La pepita d'ora Non mi serve Oh mio dio Non ci credo Io sono pronto Per ritornare Nella mia era Mi tolgo questo E magari Lo metto Qui dentro Tornò Non voglio farvi sentire Tutta la nausea Quindi farò un taglietto Mentre il glorioso Rui Non voleva far sentire La nausea Io ve lo faccio vedere Ve la faccio vedere Praticamente Prima ha fatto così Poi ha fatto così Ed è entrato Non ha capito un cavolo Ok Adesso taglio di nuovo Sono io Scusate Riaccomi Come? Sono ritornato Non la mia amata era La mia era Finalmente sono ritornato Nel mio mondo Però l'avventura nel nether Non è finita Perché Ho sentito Creeper Adios C'è uno scheletro 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 Non gli faccio niente Non gli faccio niente Non gli faccio niente Perché? Cosa? Che? Chi sta scrivendo? Sempre scheletro? Sempre scheletro? Cosa? Ragazzi Abbiamo trovato Il vero scheletro Io mi faccio Una barriera così Ragazzi L'episodio di oggi È Finito Ragazzi Se volete vedere altri episodi Di questa avventura Dovete dirlo Perché È È È Difficilissima E abbiamo scoperto Chi è scheletro Ciao ragazzi Ciao ragazzi